ben ritrovati cari telespettatori di fano tv oggi vi portiamo indietro di circa 2000 anni fa facciamo un viaggio nel tempo nella romanità di fanum fortune e io sono pronta ad accogliere il sindaco luca serfilippi e massimo piarelli consigliere della proloco ave sindaco ave consigliere vi saluto con il saluto romano perché dal mio outfit vi dichiaro che siamo già tutti pronti fano è pronta ad accogliere la fano dei cesari sindaco un evento molto sentito dalla cittadinanza si un evento molto molto importante per la nostra città per la nostra comunità io ancora non sono vestito però mi attrezzerò nei prossimi giorni e quello che chiedo ai tanti cittadini che ci stanno seguendo e di partecipare attivamente alla fano dei cesari questo significa contantare i responsabili delle fazioni significa vestirsi e cercare di partecipare anche in un clima familiare questa è la fano dei cesari che sogno e che mi piacerebbe già da quest'anno venga realizzata in città devo innanzitutto ringraziare la proloco fanum fortuna e per tutta l'organizzazione che comporta in questi mesi in questi anni e anche chi collabora a partire dai gruppi storici penso ad esempio alla colonia julia fanestris o alla simachia e lennon diciamo realtà molto importanti della nostra città anche noi insieme diciamo i genitori di sant'orso quindi c'è un grande lavoro che parte dalle fazioni che coordinato dalla proloco e per la quale l'amministrazione comunale io da pochi giorni che ci sono però sto dando il mio contributo insieme all'assessore agli eventi alberto santorelli e noi ad esempio per quanto riguarda la parte dell'amministrazione comunale oltre al contributo diciamo per l'organizzazione delle iniziative abbiamo deciso di fare uno sforzo e coinvolgere diciamo e stampare i dépliant e distribuirli in tutte le case dei fanesi perché tutti coloro che appunto vedranno il dépliant dovranno sapere quali sono le iniziative nei quattro giorni dall 11 al 14 luglio 14 luglio è la giornata diciamo di della sfilata della corsa delle bighe che comunque è un'iniziativa molto bella molto affascinante e sono sicuro mi auguro veramente che ci sia una grandissima partecipazione questo è quello che vi chiedo oggi da sindaco della città di Fano ci sarà un grande lavoro da fare nei prossimi anni oggi abbiamo ereditato diciamo un'organizzazione in corsa per la quale appunto ci tengo di nuovo ringraziare la proloco 2000 figuranti accampamenti distribuiti in tutta la città nel centro storico domus battaglie corsa con le biche è davvero un evento un attrattore turistico che si sposa con il concetto di cultura di Fano sindaco sì come dicevo prima è uno degli eventi più importanti che è legato anche a un periodo storico molto importante per la nostra città che è quello della romanità e la Fano dei Cesari è l'evento che più incarna diciamo la storia della nostra città perché comunque il periodo romano è un periodo molto importante per Fano e tra l'altro l'evento si snoderà in tutto il centro storico quindi a partire dal Pincio che è l'arena passato in termini da cui si snoda tutto il resto del percorso e ci sono tanti accampamenti romani accampamenti greci e ci sono tante iniziative poi sicuramente Massimo Piorelli illustrerà meglio di me che percorrono i quattro giorni quindi dall 11 al 14 luglio mi piacerebbe avere realizzare una promozione nazionale e internazionale perché Fano non ha nulla a che invidiare ad altre città anche alla stessa Roma nel senso che è un'iniziativa così importante penso che sia una delle poche presenti in tutta Italia quindi noi siamo per i resti del patrimonio storico dietro solamente a Roma quindi non abbiamo nulla da invidiare alle altre città dobbiamo promuovere il nostro territorio valorizzarlo e la Fano dei Cesari è l'evento che sicuramente valorizza di più la parte romana da Vitruvio che comunque ci ha lasciato in eredità tante cose tanti reperti tante tante abitazioni no ogni Fano è caratteristica perché quando andiamo a scavare l'abbiamo visto in piazza Andrea Costa troviamo sempre dei reperti archeologici quindi dobbiamo essere bravi a valorizzarli ma anche a far conoscere con le iniziative un periodo storico molto importante per la nostra città ovviamente è un ode alla romanità questa Fano dei Cesari in una cornice del tutto naturale come l'arco d'agosto il pincio diventa poa di un luogo dove partono tutte le attività quindi il fulcro della manifestazione che attrae ogni cittadini da tutta Italia e gruppi storici da tutta Italia quindi è molto ambita consigliere questa Fano dei Cesari Certo è una manifestazione molto importante dove proloco e amministrazione investono tanto in organizzazione e quindi proprio in quel luogo diciamo dove c'è l'arco d'augusto rappresenta al meglio la romanità anche se come è già stato detto la nostra città è piena di reperti Per quello in quel luogo diciamo si inaugurerà la manifestazione quindi Il giorno dell'inaugurazione sarà l'11 luglio e quindi ci sarà l'accensione del bracere che è il simbolo dell'inizio della manifestazione Il 12 ci sarà la festa per i cesarini cioè per i bambini che anche loro faranno la loro manifestazione diciamo sia la corsa delle bighe, giochi per bambini Diciamo che il venerdì 12 è la giornata dedicata ai bambini e alle famiglie in un momento di aggregazione familiare con i bambini con giochi, corsa delle bighette e per il secondo anno c'è anche la possibilità di una corsa inclusiva anche per i diversamente abili I diversamente abili esatto Poi il 13 ci saranno i ludi fortune cioè ogni fazione che partecipa porta un suo spettacolo che sarà rappresentato nell'area sempre del Pincio di fronte all'arco d'Augusto e poi si arriverà lo stesso giorno c'è anche Baccanaglia cioè la cena romana quindi in questa cena si farà sempre lì al Pincio si dovranno prenotare dei biglietti che saranno in vendita in vari punti della città Quello magari poi ci torniamo Massimo, concentriamoci un attimino un po' più sulle giornate ad esempio il sabato 13 l'U di fortune praticamente tutte le fazioni e ricordiamo a chi ci sta seguendo le quattro fazioni che è la fazione del cinghiale la fazione del cinghiale, la fazione del delfino, la fazione del lupo e la fazione della volpe Quindi quattro fazioni che il giorno 13 diciamo raccolgono tutto il territorio di Fano e quindi tutti possono contattare le varie fazioni per sfilare la domenica o anche per partecipare come abbiamo già detto alla cena Baccanaglia Quindi ogni fazione organizzerà il proprio spettacolo quindi c'è anche una sorta di competizione sana perché poi alla fine ognuno vuole dare il meglio di sé in questa occasione Certo, le fazioni cercano di fare, di programmare delle sfilate una diverse dall'altra che poi saranno valutate da una giuria e questo il premio per la migliore sfilata diciamo che è il più ambito anche se c'è la gara delle bighe e anche questa ogni biga rappresenta una fazione e quindi correndo ci sarà un vincitore una fazione che potrà dire abbiamo vinto la corsa delle bighe e così via Credo che sia il momento quello più a patos, a impatto emotivo la corsa delle bighe dove c'è tutta una città che tifa la propria fazione Certo, la corsa delle bighe è molto sentita perché diciamo che è la maggiore, come dire la maggior rappresentazione e quindi in questa gara chi riesce a vincere è veramente fiero della sua fazione Ovviamente ricordiamo la corsa delle bighe dove si svolgerà in modo da perché ci sta seguendo di garantire anche l'arrivo in tempo perché ci sarà anche una modifica alla viabilità per la giornata di domenica Certo, la corsa delle bighe si fa come tutti gli anni intorno al Pincio occupando anche parte di via Gramsci per fare un anello in pratica però la strada sarà chiusa solo la domenica e quindi l'organizzazione sarà tutto predisposta i giorni prima escludendo solo quella parte per non chiudere la strada nazionale Sindaco, una cittadina insomma coinvolta nel proprio spirito romano dove ognuno deve partecipare con il proprio idem sentire di un'appartenenza perché questo è importante anche un sentimento di appartenenza Sì, assolutamente sì il ruolo delle fazioni è fondamentale quindi su questo io ci tengo veramente a invitare i cittadini a contattare i vari responsabili delle quattro fazioni e mi piacerebbe anche leggere e illustrarle ovvero la fazione del Cinghiale color rosso e nero e il responsabile Piero Valori e i quartieri sono Cucurano, Santorso, Bellocchi, Carrara Falcineto e Rosciano poi abbiamo la fazione del Delfino quindi colore bianco e azzurro e la responsabile è Lucia Lucarelli e ne fanno parte i quartieri del centro Fano2, Mare, Flaminio, Trave, San Cristoforo Paleotta, Vallato, Poderino, San Lazzoro e Fanella poi abbiamo la fazione del Lupo colore bianco e giallo e il responsabile è proprio Massimo Piarelli e i quartieri sono Ronco Sambaccio Sant'Andrea in Villis Gimarra Fosso Segliore Fenile San Biagio Carignano Belgatto e Centinarola e l'ultimo invece è la fazione della Volpe dove il colore è bianco e granata e la responsabile è Luana Riminucci e ne fanno parte i quartieri di Ponte Sasso Caminate Metaurilia Ferriano Tombaccia Tre Ponti Torrette e Villa Uscenti quindi io mi auguro veramente che tutti i cittadini che ci stanno ascoltando contattino i responsabili delle quattro fazioni perché è importante la partecipazione delle persone in maniera attiva oltre al giorno dell'inaugurazione dove comunque è uno spettacolo sempre molto affascinante è la corsa delle bighette quindi diciamo tutti i bambini le famiglie per quanto riguarda la giornata del venerdì e poi ci sono sempre degli spettacoli di danza e io le ringrazio tutte le varie associazioni che danno una grandissima mano su questo sono veramente spettacoli emozionanti poi sabato diciamo i gruppi storici faranno veramente degli spettacoli veramente di grande livello storico, culturale e quindi vi invito senza svelare troppo a partecipare e poi la domenica è il giorno della sfilata il giorno in cui si arriva tutti insieme sotto l'arco d'Augusto io ho partecipato diverse volte ogni volta che comunque passi sotto l'arco d'Augusto entri in questa sfera veramente magica ti scende un brivido quindi ti fa rivivere questa storia mi piacerebbe che anche i turisti partecipassero attivamente quindi anche con tutti gli albergatori che magari ci stanno ascoltando dovremo cercare di far partecipare perché è un'emozione vera passare sotto l'arco d'Augusto con questa musica di sottofondo con gli speaker che ti annunciano ecco è una grande festa un grande rito e mi auguro veramente che ci siano tanti cittadini che partecipano poi dopo come sempre si conclude con la corsa delle bighe che comunque ci saranno delle tribune a disposizione quindi vi invito a partecipare chi non vorrà sfilare ma a partecipare attivamente recarsi nei pressi del Pincio perché ci saranno delle tribune a disposizione devo dire che essendo fanese di adozione ho studiato un po' i cenni storici di questa manifestazione ed era un momento di attrazione anche di alcuni personaggi molto importanti che facevano quasi a gara per partecipare ad essere la messalina il console quindi era un momento proprio di vetrina ma che poi doveva essere semplicemente una cornice perché poi i veri protagonisti sono i fanesi allora invitiamo tutti a partecipare alla Fano dei Cesari dall'11 al 14 luglio in sovraimpressione troverete il link per acquistare i biglietti perché nella giornata di sabato e domenica l'ingresso sarà previo acquisto ticket io ringrazio il sindaco Luca Serfilippi e Massimo Pirelli consigliere della Proloco ringrazio la regia Riccardo Sora vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Fano TV e ave fan un fortuna grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti